Mancava da due anni dal pre-pandemia la Sagra di Pegnana che negli ultimi due fine settimana ha celebrato il suo ritorno alla normalità dopo tanti mesi difficili per tutti e lo ha fatto con un'edizione che ha registrato indubbiamente la voglia di tornare a vivere di centinaia e centinaia di persone. Domenica 3 luglio l'ultima serata al fresco delle colline di Pegnana in mezzo a castagne vedute piacevoli dell'Appennino ed anche la sindaca di Barga Caterina Campani non ha voluto mancare l'appuntamento e l'occasione per celebrare il ritorno delle sagre tradizionali del territorio. Finalmente dopo due anni che abbiamo sofferto un po' della mancanza di queste occasioni è ritornata la prima fiera tradizionale paesana in Pegnana quindi siamo tutti qui mi sembra che sia andata bene in questi due weekend quindi partiamo con grande slancio quest'estate e ce ne saranno anche altre però ribadisco questa è la prima quindi ha un sapore tutto particolare. Tra i componenti storici del comitato di Pegnana che organizza da decenni questa sagra c'era anche Omero Tonieri che non nasconde l'emozione per questa ripartenza. È un'emozione forte, è una cosa meravigliosa poter ripartire dopo due anni ma non soltanto per la mancanza della sagra è mancato proprio l'aggregazione, la possibilità di ritrovarsi è stato difficoltoso rimettere in fila tutte le pedine per poter ripartire però ce l'abbiamo fatta e sono soddisfatto perché anche i ragazzi che collaborano con noi sono tutti venuti, sono tutti ritornati, anzi sono aumentati quindi è stata una cosa meravigliosa. Molto apprezzato in questi giorni di calura anche il refrigerio di questo angolo di montagna barghigiale che ha regalato a tutti i partecipanti momenti particolarmente piacevoli tra una gustosa portata ed un ballo in pista anche questo senz'altro un altro ritorno alla normalità.